Sono state le immagini delle telecamere e di videosorveglianza ad incastrare il presunto assassino di Gabriele Giammarino, 80 anni, sotto ufficiale dell'aeronautica militare a riposo, rinvenuto ieri mattina privo di vita nella sua casa con ferite d'arma da taglio. Si tratta del 36enne Mirko Gian Caterino, tossicodipendente già con precedenti di polizia. Il giovane era stato anche indagato quasi 20 anni fa per omicidio in conseguenza di altro delitto per aver spacciato una dose di droga ad una ragazza, poi deceduta. Il presunto omicida fuggito dopo l'efferato delitto di penne è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno sottoposto a fermo e interrogato per alcune ore prima di arrestarlo. Adesso però prima di essere certi finiamo tutti i nostri accertamenti, stiamo aspettando l'intervento del RIS che ci darà una grossa mano sul sopralluogo, però gli elementi che per il momento abbiamo raccolto, telecamere, testimonianze, riconducono a lui. Ovviamente ieri pomeriggio c'è stato anche l'interrogatorio da parte del PM di turno, si è avvalto della facoltà di non rispondere, adesso aspetteremo l'esame autoptico da parte del medico legale e gli ulteriori accertamenti che proseguono perché non è finito ancora. L'anziano che viveva solo e non era sposato era stato rinvenuto ieri privo di vita nella sua casa di via Castiglione nel centro storico parzialmente ingendiato e sembrava fosse deceduto per il rogo e invece un'analisi più accurata sul corpo ha permesso di verificare ferite di arma da taglio compatibili con un'azione violenta. L'incendio era servito per depistare le indagini. C'è stato anche un aiuto da parte dei residenti della palazzina dove vive l'anziano? Devo dire che c'è stata grande collaborazione da parte della popolazione, degli esercenti che ci hanno messo subito a disposizione la visione dei filmati. Noi siamo partiti da quello, dalla visione del filmato della telecamera e dalle testimonianze degli abitanti della palazzina in cui hanno detto che c'era stato grande movimento, grande rumore, televisore a tutto volume e coincide con l'orario di passaggio del soggetto all'andata e al ritorno.